Buona domenica da Maria Beatrice Cricci, le audio news di Onda Web TV. In questo periodo di emergenza coronavirus continua la catena di solidarietà attivata da molte associazioni casertane che già da giorni si sono organizzate con consegne a domicilio della spesa o dei medicinali alle persone anziane o impossibilitate ad uscire. E intanto il sindaco di Caserta Carlo Marino rinnova con forza l'appello rimanete a casa. E sarà un mercoledì insolito e innovativo quello del ritrovo del lettore che si trasforma in tele ritrovo. Infatti non rinunciano al loro incontro i giovani bibliofili capitanati da Valerio Finizio e Antonella Marchesiello e non potendo incontrarsi nella loro sede abituale danno appuntamento sul web per una discussione virtuale su Pinocchio di Carlo Collodi per mercoledì 18 marzo alle ore 21. E in questo periodo la cultura in tutte le sue declinazioni farrete così gli artisti che chiamati all'appello nella lotta contro Covid-19 stanno dando un contributo significativo. Oggi proponiamo l'opera di Carlo De Lucia, artista di Maddaloni. Il titolo è Attesa. La libreria Che Storia ha deciso di non lasciare senza storia i suoi piccoli amici. Così due volte al giorno sta pubblicando sulla pagina Facebook di Che Storia due letture ad alta voce di albi illustrati. Uno dopo le 12, l'altro della buonanotte dopo le 20. Da non perdere. E ancora un'iniziativa on air come quella della Biblioteca Diocesana a San Tommaso d'Aquino di Piedimonte Matese De Cameron 2.0, caffè letterario ai tempi di Covid-19. Basterà collegarsi ogni sera alle 21 su Facebook, sulla pagina dell'evento. Qui saranno pubblicati dei mini video in cui gli amici della Biblioteca proporranno la lettura non solo di racconti ma anche novelle, brevi passaggi di libri presi dalle mensole delle proprie case. Ed è tutto da Maria Beatrice Crisci. Un grande abbraccio e una raccomandazione. Restate a casa e seguite ondawebtv.it